Ciao, ciao! Dai, tenuto il trenino! Ciao, ciao! Il doppio trenino, è vero? Sì! Sì! Dai, dai, dai! Ecco il trenino che è una mattina durante la novena, la chiesa di Sant'Antonio. Vai! Vai, vai! Adesso, trenino! Andate insieme! Vai! 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 Di nuovo, di nuovo! Ciao, ciao! Più forte, più forte! Ciao, ciao! Ok, stanno tontelle, dai! Trenino, come fa? Ciao, ciao! Vai, vai! Il trenino, come fa dietro? Ciao, ciao! Andiamo! Andiamo! Andiamo su piedi, piedi, piedi! Poi mi taghi qualche po' il tempo! E' ancora! E' lunga! 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 Certo!